Benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere come ricevere la skin coreana con il suo deltaplano più 300 V-Bucks Ok, ecco qui l'immagine In questo video vedrete tutti i passaggi Mi raccomando, guardatelo fino alla fine Iscrivetevi anche al canale, lasciate un bel mi piace, commentate e condividete Passiamo subito al video Una volta entrati bisogna fare impostazioni, lingua e fare coreano Eccolo qua, regioni di matchmaking, auto Fare applica Aspettiamo un attimo Ok, tutto in coreano, non vi preoccupate Vi comparirà questa schermata È tutto normale, tranquilli E basta andare su parco giochi, non riempire Ok E giocare Ok Bisogna andare qui a bacino bucato Per completare tre sfide Vi consiglio le sfide comuni Che sono i tutoriale più facili L'evento è iniziato l'8 novembre E finisce il 22 novembre Non riceverete subito la skin di V-Bucks e il deltaplano Li riceverete il 29 novembre Non vi preoccupate Quindi se non li vedete subito Ok Siamo qua, perfetto Queste qua sono le sfide grigie Prendiamo una con legno E una Questa Due E tre Qua Perfetto Prendiamo anche un pollo di legno Non si sa mai Perfetto Praticamente Ok, prima togliamo questo lama Praticamente Poi cosa dovete fare? Piazzare la prima sfida Eccola Qua Ok E completarla Entrare nella classifica Vi consiglio di arrivare primi Per esempio qua Vai Vai, 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 vai Completato No, sono arrivato secondo Vabbè Completate questa sfida Cercate di arrivare primi Va bene Una volta completata quella sfida Le piazzate un'altra Per esempio questa Ok, stiamo spawnati qua Perfetto Sarà giusta? Boh, spero di sì Cos'è che bisogna fare? Completare il percorso Vai Ad esempio qua Perché non corre Ad esempio qua Così Vai Ok Vai, vai, vai Quindi Su Vai Poi Così Ok E Completarla Siamo arrivati primi Alla grande Dopo aver completato Anche questa sfida Iniziamo un'altra Ovviamente Quanto è grossa questa Ok Eccoci qua Cosa bisogna fare? Colpire il bersaglio Credo Prendiamo tutte Le armi Una Due Tre Perfetto Eccoci qua Facciamo così E si inizia Sempre Questa Ah c'è quella Un'altra Un'altra Sono arrivato primo Perfetto Una volta Completate Tutte queste sfide Mi raccomando Restate In gioco Dovete Morire Dalla tempesta E arrivare primi Non so se vale Anche suicidarsi Però vi consiglio Di rimanere Fino alla fine Lasciate Casomai Forte Nel te aperto E fate altro Poi Una volta Finite Tutte queste sfide Ritornate in lobby Io adesso esco E potete cambiare La lingua E la regione Di matchmaking Tranquilli Non venite bannati Praticamente Qui vi dovete spostare A sinistra Di due Uno due Ok E vi ritorna L'italiano Ok Eccolo qua Italiano Qui possiamo fare Europa Ok Notizie Tutto in italiano Così In teoria Il 29 Riceverete Tutte le cose Che vi ho detto Prima Comunque Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Al canale Per supportarmi Commentate E condividete Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzuoli Noi ci vediamo